Non arrivano big politici a Teramo per Maria Cristina Marroni, ma non è un caso giustamente perché lei è un'autonoma sostenuta da tre liste e va avanti da sola. Potremmo dire superbamente perché il big sono io, non ho bisogno di altri big che mi supportino, fuori dalla risata. Io non li ho voluti, non ho voluto che arrivassero perché penso che le elezioni amministrative debbano riguardare il territorio perché poi non sono questi big che vengono ad amministrare la città di Teramo. E soprattutto notavo anche ascoltandoli che nessuno è venuto a parlare dei problemi della città di Teramo, sono venuti soltanto a fare passerelle. Mentre in passato quando un politico nazionale si recava in un territorio, si faceva fare dei report sul territorio, quindi poi quando parlava effettivamente era informato. Invece oggi neppure questa minima attenzione per Teramo. Domanda evidentemente provocatoria. Maria Cristina Marroni strizza l'occhio verso il centro-destra o verso il centro-sinistra? Strizzo l'occhio in alto, né a destra né a sinistra. Questa è una posizione di forte autonomia e resterà tale e con grande determinazione faremo sentire la nostra voce in Consiglio Comunale. Oggi parlavo con un importante imprenditore il quale mi diceva per fortuna che ci siete voi, altrimenti non sarei andato a votare, come anche altre persone di un certo rilievo. Perché i giochi erano piuttosto fatti. Quindi noi siamo la vera novità di questa campagna elettorale, noi siamo il Giamburrasca di questa campagna elettorale, noi siamo il Napoli di questo campionato. In caso di ballottaggio quindi come si comporterà Maria Cristina Marroni? In caso di ballottaggio, se non dovessi essere io ad arrivare al ballottaggio, mi prenderò 48 ore di silenzio assoluto e si rifletterà con i candidati su alcuni punti programmatici che sono assolutamente prodromici a qualsiasi discorso politico.